negli anni 60 credo fosse il 1968 qualcosa del genere il presidente dello stato di israele si chiamava zalman shazar e lui è venuto per una visita diplomatica negli stati uniti e tra le altre cose ha voluto tanto andare a visitare 770 andato dal rebbe quindi arriva verso mezzanotte arriva dal rebbe lo riceve ci sono delle fotografie molto belle il cavo l'onore che gli ha fatto rebbe era incredibile e la prima cosa che dice il presidente dello stato israele dice ma che freddo fa qui a new york in israele non conoscono questo freddo anzi quest'anno si lamentano che il freddo non c'è più di tanto piove però è una berahà quest'anno il kineret è arrivato quasi al livello massimo da lì inizia l'allerta che è una berahà però dicono che non faccia molto freddo in israele credo che irushalayim sia il posto più freddo a parte il hermon credo che sia irushalayim in israele il posto più freddo e in estate non lamentatevi perché la sera irushalayim si sta benissimo non si può invidiare ma mi permetto di invidiare chi abita in israele è un merito che non tutti hanno ho sentito una lezione molto bella in cui era stato spiegato che in generale in ered israel quando qualcuno vive in ered israel è perché la terra di israel ha accettato e ha invitato questa famiglia questa persona e irushalayim è un altro livello completamente se uno ha il merito di vivere irushalayim è perché ha ricevuto il merito di poter vivere a irushalayim quindi possiamo invidiarvi almeno lasciateci almeno questo grazie anch'io prima di venire invidiamo chi ci viveva quindi è lecito sono scuse ma se se non succede è perché ancora non siamo non siamo stati invitati non abbiamo questo merito quando succede presto presto amen 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 quindi dicevo che a new york a gennaio faceva molto freddo e il presidente del dello stato di israele si lamenta con il rebbe dice fa molto freddo qui il rebbe gli dice una frase che è la sintesi di tutta la chassidut il rebbe gli dice questo per questo motivo hashema ha mandato in questo mondo buio e freddo delle anime che portano luce e calore perché noi siamo qui per contrastare il freddo e il buio che è caratteristico di questo mondo nella lezione di stasera parleremo del fatto che ognuno di noi è una candela che deve portare calore e luce al mondo dobbiamo ricollegarci alla lezione della settimana scorsa in cui abbiamo fatto una domanda il tanya nel capitolo 35 pone questa domanda che è una cruda realtà e dice quando una persona tutta la sua vita nel servire hashem rimane nello stesso livello in cui si trova e non diventerà mai un tanya questo stato in cui lui si trova nonostante le fatiche nonostante l'impegno nonostante tutta la devozione nel servire hashem e non vede mai la luce alla fine del tunnel potrebbe indebolirlo potrebbe eh renderlo meno attivo e potrebbe diciamo portarlo a una situazione di frustrazione totale per il fatto che io lavoro 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 e non vedo mai la soddisfazione di aver portato a termine questo lavoro avevo fatto l'esempio di coloro che lavorano in questo in questo molto molto delicato eh che io la chiamerei una missione delle delle forze segrete degli servizi segreti in cui loro devono prevedere gli attacchi terroristici e li devono neutralizzare in ehm in accordo con le forze militari chiaramente in sincronia con le forze militari ma tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni ci sono degli uffici in giro per il mondo dove ci sono delle persone che si svegliano la mattina e vanno nel loro ufficio e hanno il computer e il telefono e tutti i numeri e tutto quanto il loro lavoro è quello di organizzare attentati terroristici ora fino al 2001 il mondo credeva che è un problema israeliano ma dal 2001 hanno si sono il mondo si è svegliato in in un incubo che il terrorismo non è più un problema israeliano un problema mondiale perché perché c'è gente che fa solo questo di mestiere quello di svegliarsi la mattina e dire vediamo a chi posso fare del male oggi noi dentro il nostro cuore abbiamo esattamente la stessa guerra vi avevo spiegato che l'autore del tania spiega la struttura dell'anima nel capitolo 9 dice che l'anima divina è nella mente nel cervello il cervello è il supporto dell'anima divina e l'anima animalesca si trova nel cuore nella parte sinistra però anche nella parte destra abbiamo un riflesso abbiamo un'ambasciata dell'anima divina perché perché Hashem ci chiede di amarlo e di temerlo e come si fa a amare Hashem se uno non ha il sentimento nel cuore per avere il sentimento di amore verso Hashem devo avere Hashem nel mio cuore quindi Hashem ha già predisposto il cuore alla capacità di amarlo e quindi una parte dell'anima divina si trova nel cuore nella parte destra e c'è questa guerra giorno per giorno mattina pomeriggio e sera mattina pomeriggio e sera a parte destra contro la parte sinistra e lo diciamo nello Shema mattina e sera con tutti i tuoi cuori al plurale guerra da quando nasci fino all'ultimo respiro sapere che questa è la missione della mia vita senza trovare mai un momento di soddisfazione e sedermi e poter godere del risultato delle mie fatiche è molto molto difficile questo è l'argomento della lezione del capitolo 35 come si fa a consolare colui che si chiama benoni il benoni avevo spiegato che colui che combatte continuamente non lascia mai e gli e sarà a penetrare i punti di comando che è il cuore e che è la mente il pensiero la parola e l'azione che sono i punti nevralgici del comando del corpo non il benoni è colui che contiene continuamente riesce a contenere questi tentativi di sbarramento da parte dell'oyezerara è una guerra infinita ora come facciamo ad andare avanti giorno per giorno quando sappiamo che domani sarà come oggi e fra una settimana sarà come questa settimana e fra dieci anni sarà come il primo giorno è difficile è così allora l'autore del tania ci aiuta ad andare avanti nel 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 perché avut mentre parlavo mi è venuto in mente che nel perché avut c'è una famosa un famoso detto lo alekha ha melakha ligmor non sei tu colui che dovrà portare a termine però comunque questo questa non è una scusa e non sei libero non sei esente da liberarti da questo compito in altre parole nonostante che tu forse meriterai di vedere compiuto compiuta l'opera di 3.336 anni di lavoro da quando abbiamo ricevuto la Torah fino a oggi forse noi meriteremo sicuramente noi meriteremo la venuta di Mashiach però nel caso quest'opera non sia ancora completata non sarai mai esente dal fare la tua parte per portare a termine questa opera perché vi ho detto sicuramente la nostra generazione la generazione di Mashiach perché volevo iniziare la lezione ricordando che oggi in Israele tutti hanno celebrato questo giorno così importante il quattro di Scevat che è il giorno in cui si ricorda i 40 anni dalla dipartita del di un grande Tzadì che si chiamava Rabbi Israela Bochazzera conosciuto come i Babasali esattamente bravissimo ora ho messo la candela anche in Italia ieri sera wow 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 quindi avrai la luce delle Babasali anche a casa tua e anche nel tuo cuore nella tua mente ma tutti quanti noi perché anche chi sa e anche chi non sa comunque siamo legati tutte le anime insieme e quindi gioviamo di un giorno così importante perché vi dico che è un giorno importante perché abbiamo imparato un'altra volta ve la racconterò una storia molto bella con l'autore del Tania ma non voglio uscire dall'argomento e l'autore del Tania ci ha insegnato che in cielo la ricorrenza di un Tzadì il giorno in cui ha lasciato questo mondo lui diventa padrone dei cieli è scritto che tutti i Tzadìkim compreso Hashem stesso si recano nel suo palazzo del Tzadìk e esaudiscono le sue richieste quindi chi è legato al Tzadìk è più vicino ad ottenere le sue richieste sono stato a Venezia una volta ho incontrato un rabbino che era conosciuto in Israele era il rabbino della Ossen Rav Harlape mi ha detto una cosa così in simpatia mi ha detto in Israele ci sono due posti dove c'è un'affluenza turistica diciamo più che turistica spirituale il primo è il Kotel il muro del pianto tutti andiamo al Kotel il secondo qual è e dove riposa Rabbi Shimon Bar Yochai Amiron allora poi lui continua e mi dice e qual è il terzo posto mi dico non lo so allora mi dice è il ristorante Gam Gam di Venezia non lo sai chi non è stato al ristorante Gam Gam di Venezia ma la verità è che ho contestato questa cosa perché risulta il terzo posto essere lì dove riposa il Baba Sali in Israele a Niti Vot oggi ho visto dei video perché c'è stata anche mia figlia c'è stata mia socia la zia mio zio tutti hanno mandato delle fotografie che sono tutti lì c'erano decine di migliaia di persone nel Esrat Nashim dove c'erano le donne tutte con gli occhi chiusi a dire tutti insieme è un momento molto molto bello ma perché volevo ricordarvi del Baba Sali questa sera innanzitutto per avere il merito di ricordare un saddick in un giorno così importante è già è già questo tantissimo ma la verità è che quando parliamo di un saddick quando ricordiamo un saddick da una parte questa cosa ci dà ci dà orgoglio fa parte della mia storia fa parte di me siamo tutte anime legate una con l'altra ma dall'altra parte sappiamo che non riusciremo mai a raggiungere i livelli che hanno raggiunto è una realtà è una realtà lo dice anche il Tania lo dice chiaramente chi studia Tania tutti i giorni era il Tania della settimana scorsa che dice che il il Benoni non diventa saddick a meno che Hashem non gli fa un regalo e gli toglie lo Yetzarara se Hashem decide che lui merita di avere soddisfazione nella sua vita ma in realtà noi sappiamo che siamo nati con un Yetzarara e moriremo con un Yetzarara e questa è una cosa che da una parte raccontiamo i miracoli di Saddick in perché dal Baba Sali specialmente si raccontano miracoli continuamente lui dormiva da circa dall'una alle due di mattina un'oretta e non andava a dormire nel suo letto aveva il bastone appoggiava la testa sul bastone dormiva così un'ora voglio vedere se qualcuno riesce a dormire così si alza va a prendere l'aspirina perché dormire così su un bastone rende le persone peggio di quello che sono ma lui si svegliava alle due iniziava a fare Tikkun Khatzot che è una preghiera che si fa che ha istituito la Rizal per la distruzione del Bet Hamikdash con le lacrime tutte le notte si sedeva per terra e piangeva per la distruzione del Bet Hamikdash perché soltanto con le lacrime lo potremmo ricostruire così dicono i nostri Chachamim e poi arrivato arrivato arrivava il tempo di prepararsi per la Tefilah in Israele il giorno è molto presto verso le 5 5 e mezza la Tefilah due ore di Tefilah poi studiava Talmud e verso le 10 di mattina iniziava a ricevere le persone che venivano a chiedere delle Berahot e i miracoli erano all'ordine del giorno non so se avete voglia di sentire una storia ma assolutamente sì ma non so quale poi nel giorno dell'Ogiorza di Babasari altro che sì però quale storia vi posso raccontare non oggi subito ma tutte le volte sì sì grazie ma sto cercando perché ieri sera ne abbiamo raccontate tante sto cercando vabbè mi viene in mente una non è una storia di miracolo ma è una storia che ci spiega chi è Rabbi Sarela Bochazzari questa storia l'ho sentita dal fratello del protagonista che è il cognato della Morabella Gansburg di Milano è mancato purtroppo il cognato in Ucraina purtroppo è stato aggredito da degli antisemiti e purtroppo è mancato dopo alcuni mesi di di agonia una storia molto triste ma io l'ho conosciuto in Israele a Natania un Shabbat e ci ha raccontato una storia incredibile con suo fratello ora vi dico anche il nome fratello si chiama Rav Moshe Daich perché il fratello era legato con il Babasari perché il Babasari quando è arrivato in Israele per un breve periodo è stato a Yerushalayim e vicino di casa del Babasari era un grande kabbalista si chiamava Rabbi Yosef Daich il padre di questi fratelli protagonista della storia il legame nonostante che il Babasari gli ultimi credo vent'anni credo della sua vita sia stato a Netivot perché a Netivot c'era una grande comunità di ebrei che uscivano dal Marocco e quindi lui ha scelto di andare a stare con loro e Rabbi Moshe Daich andava spesso a visitarlo perché il legame era rimasto molto forte in quanto lui col padre fino al punto che quando e quando il padre è venuto a mancare Rabbi Yosef Daich non hanno voluto dirlo al Babasari sapevano che questa notizia le avrebbe portato tanta tanta tristezza e quindi hanno aspettato 30 giorni per dirlo perché si chiama Shemuare Hoka una notizia lontana dopo 30 giorni anche alachicamente però lui non ha preso in considerazione il fatto che era una notizia lontana ha chiesto al suo figlio di metterlo per terra e ha strappato il vestito ha detto il mondo non è uguale senza Rabbi Yosef Daich questo era il legame che avevano ora il figlio veniva spesso a visitare il Babasari il figlio sono dei chassidim del Rebbe e quindi lui non so se tutti gli anni ma nel 1979 a settembre per il tishrei del Tafshim Mem lui è andato dal Rebbe a passare il Chagim prima di andare dal Rebbe è andato a salutare il Babasari a dirgli Shana Tova e raccontandogli che lui domani dopo domani prende l'aereo per andare a New York a New York il Babasari si alza gli dà un un una banconota da 100 dollari e gli dice questo questa è la mia partecipazione per il tuo viaggio per il Rebbe e lui si sentiva molto a disagio gli dice Rebbe non sono venuto qui a a chiederti dei soldi è vero che negli anni settanta andare negli Stati Uniti era davvero oneroso ma non sono qui per questo sono solo venuto per dirti Shana Tova e Babasari gli dice ma cosa non capisci io ho 90 anni lui è nato nel 1890 1889 il primo giorno esatto primo giorno di Rosh Hashanah e gli dice io ho 90 anni e vorrei anch'io venire con te dal Rebbe ma siccome sono troppo anziano e non posso dammi almeno il merito di partecipare insieme a te al tuo viaggio per il Rebbe allora ha dovuto prendere questi 100 dollari e gli ha detto aspetta perché voglio scrivere una lettera al Rebbe perché preghi per me il giorno di Rosh Hashanah perché preghi anche per me il giorno di Rosh Hashanah e gli ha dato questa lettera che si chiama Pan Pan sta per Pidyon Nefesh il riscatto dell'anima questa è l'usanza che prima di Rosh Hashanah tutti andavamo da Rebbe in fila e gli davamo e Rebbe stava alla porta del suo studio e riceveva tutte queste lettere e che cosa faceva con tutte queste lettere il giorno dopo prima cosa le portava nella vigilia di Rosh Hashanah andava sulla tomba di suo suocero e le leggeva tutte e pregava per ognuno e di questo c'è il video in cui il Rebbe che piangeva e continuava a asciugarsi le lacrime ognuno con i suoi problemi ognuno con le sue difficoltà ognuno con le sue tragedie ognuno con le sue sfide giornaliere e Rebbe pregava per tutti quanti ma poi tornava indietro e il giorno di Rosh Hashanah quando lui suonava il shofar portavano tutte queste lettere questi sacchi con le lettere lì dove il Hazan prega sulla Teva o Bima come la chiamate mettevano tutte le lettere sopra e con il Talit le copriva tutte e suonava lo shofar in questo modo a Rosh Hashanah quindi anche il Babasali voleva che la sua lettera arrivasse al Rebbe che cosa succede che salto molti 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 passaggi di questa storia perché dopo diventa troppo lunga torna dopo il Hagim e va a visitare il Babasali quello che non vi ho raccontato è è che per tanti lunghi anni questo signor Moshe Daich era sposato ma non ha meritato di avere figli ma lui in quanto chasside del Rebbe non voleva andare in giro a chiedere a tutti i tzadikim chiedeva solo al Rebbe Rebbe voglio un figlio Rebbe voglio un figlio in ogni lettera chiedeva una bracha per avere figli se avrò se Rebbe creda che io meriti Rebbe sa quello che fa e Rebbe sa cosa chiedere Rebbe sa cosa non chiedere io sono un chasside Rebbe sono legato a lui nonostante che migliaia di persone tutti i giorni andavano dal Babasali ma lui dice voglio chiedere al Rebbe quindi non ha mai chiesto al Babasali una bracha per i figli ma ora ascoltate la grandezza di questo tzadik di cui stiamo raccontando dopo il Hagim Rabbi Moshe Daich torna in Israele e va a visitare il Babasali e gli dice che la sua la sua missione è stata compiuta e lui ha dato nella mano del Rebbe la sua propria lettera e anche quella del Babasali dicendo al Rebbe questa è di Rabbi Israele e ha raccontato che Rebbe ha preso la lettera della Babasali l'ha alzata così e ha detto è un ebreo del Bal Shemtov così ha detto l'ebreo del Bal Shemtov significa che il Bal Shemtov aveva come allievi e come compagni di studio delle persone di un livello altissimo e Rebbe ha chiamato al Babasali uno di quelli del Bal Shemtov e quando lui dice al Babasali che ho messo nella mano del Rebbe la sua lettera Babasali ha fatto un sorriso ha detto ti devo un favore e siccome ti devo un favore voglio pagartelo subito c'è una regola che Hashem non rimane mai in debito con nessuno quando Hashem ti chiede di fare una mitzvah e lo scrive anche nella Torah quando dice Anni Hashem io sono Hashem Rashi scrive sempre sotto ne eman le shalem sahar fidati che io pago quello che ti chiedo non sono mai debitore con nessuno e anche al contrario quando Moshe va dal Faraone e gli dice Anni Hashem guarda che quello che ti ho detto che moriranno i primogeniti e che l'Egitto sarà una landa desolata e devastata totalmente succederà se tu non ascolti quello che io ti chiedo di lasciare libero il popolo succederà e anche lì Moshe Rabbeno dice Anni Hashem e anche e scusate Hashem dice nel Pasuk Anni Hashem che Moshe poi doveva trasmettere al Faraone e lì Rashi dice così come io non rimango in debito se qualcuno fa qualcosa di positivo per me nello stesso modo non rimango in debito se qualcuno fa qualcosa di negativo nei miei confronti quindi minaccia il Faraone in questo modo anche i tzaddikim che loro vivono assomigliando ad Hashem che è una mitzvah della Torah quella di assomigliare ad Hashem sappiamo che i tzaddikim non lasciavano debiti se qualcuno aveva fatto qualcosa un favore o qualsiasi cosa per un tzaddik cercava sempre di pagare subito questo tutti tutti noi dovremmo adottare questo comportamento mai lasciare debiti è una cosa che l'anima in cielo soffre tantissimo se qualcuno lascia questo mondo con dei debiti sia di denaro o qualsiasi altro tipo di debito è pesantissimo per l'anima perché anche se è piena di mitzvah così non può non può non può non può entrare nel 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 paradiso in Gan Eden perché un cielo devono fare in modo che i figli pagano per le colpe dei padri succede questo è un argomento molto molto profondo interessante ma era solo per dirvi che il babasali dice arabi moshe daich voglio pagarti subito il debito e quindi gli racconta questo gli dice devi sapere che a rosh Hashanah e lui parla in codice adesso io vi decodifico quello che dice babasali dice a rosh Hashanah vengono da me e mi chiedono di firmare vi spiego che cosa significa Hashem quando ha creato il mondo ha messo una regola che questo mondo appartiene ai tzadikim vi faccio un esempio della Torah Hashem decide di distruggere capovolgere le città di Sodoma e Gomorra ma non lo fa prima di aver chiesto autorizzazione da Avraham Avinu conosciamo tutti la discussione che ha Avraham Avinu con Hashem per salvare queste città e così sempre nella storia i nostri chachamim dicono tzadik gozer a kadosh baroku mekayem tzadik è quello che ha l'ultima parola e a kadosh baroku mette in atto mette in pratica quello che è stato accettato dal tzadik quindi questo mondo appartiene ai tzadikim quindi a rosh Hashanah dopo che Hashem ha deciso tutto chi vive eccetera chi diventa ricco eccetera chi guarisce eccetera tutto chi avrà figli allora succede che prendono gli angeli prendono tutte queste liste e le portano ai tzadikim perché loro firmino perché loro mettono la loro firma così sia allora il babasali dice a rabbia Moshe Daich sono venuti da me per farmi firmare ho preso la lista di chi avrà figli e quando ho visto che il tuo nome non risultava nella lista ho chiesto agli angeli dov'è il mio amico Moshe Daich nella lista di chi avrà figli ricordate che Moshe Daich non ha mai chiesto al babasali la berahà per avere figli ma il babasali sapeva che lui non aveva figli e sai che cosa mi hanno risposto mi hanno risposto che tu eri nella lista dell'anno scorso e lui guarda il babasali dice come la lista dell'anno scorso se mia moglie è incinta lo devo sapere no babasali fa un sorriso e non dice più una parola lui ha capito che c'è qualcosa sotto quindi si alza si congeda e corre al telefono e telefona sua moglie a quei tempi per sapere se una donna era in gravidanza o no non c'era il test rapido bisognava andare in ospedale a fare l'esame del sangue ha detto sua moglie corri in ospedale fai l'esame del sangue io ti aspetto qui dopo qualche ora lei è arrivata ha chiesto urgenza urgenza è riuscita ad ottenere i risultati con urgenza e risultava essere a metà del secondo mese quindi lei era rimasta incinta prima di Rosh Hashanah chi gli ha informato era che lo sapeva perché gli angeli in cielo gli hanno fatto vedere la lista di chi quest'anno avrà figli e gli hanno detto il tuo amico era nella lista dell'anno scorso quindi stiamo parlando di Zadikim di questo livello ma la storia non finisce qui perché io la storia che ho sentito dal fratello era così e gli si è fermato sono andato una volta a Venezia Shabbat e ho raccontato questa storia a Venezia e dopo una settimana mi ha chiamato non so chi lo conosce chi di voi lo conosce un rabbino israeliano a Michai Riber si occupa dei ragazzi della yeshiva mi chiama e mi dice ma la storia non finisce qui la storia che ci ha raccontato la settimana scorsa non finisce qui gli ho detto beh io questo ho sentito dal fratello Rav Men del Daich e mi dice no perché questo Shabbat è venuta la figlia di Rabbi Moshe Daich è stata qui a Venezia e le abbiamo chiesto se è vera la storia che abbiamo sentito la settimana scorsa da Yosef Haddad di Milano e le hanno raccontato la storia e ho detto sì ma la storia non finisce qui perché quando lei racconta quando mio papà al telefono ha sentito da mia mamma che è realmente confermato che è incinta quindi da prima di Rosh Hashanah lui ha bussato alla porta e ha chiesto al Baba Sali se poteva fare qualcosa perché sia un figlio maschio e il Baba Sali si è messo a ridere perché si è messo a ridere perché si è andato a telefonare è vero non ti sei fidato di me a un certo punto diventa molto serio e guarda un attimo in basso alza gli occhi e gli dice non questa non questa dopo queste parole e la figlia di Rabbi Moshe Daich a Venezia dice io sono la prima non questa poi ho una sorella non questa però dopo sono arrivati i maschi quindi non è una storia di miracoli è una storia di più di miracoli i miracoli sono cose piccole il Baba Sali quando dava una berakha si avverava sempre qualsiasi berakha che dava si avverava ma questa storia ci insegna che loro erano delle persone che avevano un corpo fisico ma erano delle persone completamente spirituali si andava dalla loro anima per parlare con la loro anima per ricevere una berakha da queste anime gigantesche che avevano anche un corpo sapete che c'erano periodi dell'anno che il Baba Sali digiunava dall'uscita di Shabbat fino all'entrata di Shabbat senza interruzione la sera per mangiare per bere sei giorni e i dottori non capivano questa cosa come poteva come poteva questa persona rimanere e lo faceva di settimana in settimana e ogni tanto capitava che diceva sua moglie stasera si fa un grande seudà perché sono riuscito a piegare un un accusa molto forte sul nostro popolo e quindi stasera si festeggia e così poteva capitare in un momento qualsiasi che la sua moglie soffriva del fatto che lui digiunava non a intermittenza digiunava e basta da Shabbat fino a Shabbat sono persone che hanno un controllo totale del loro corpo perché il loro corpo non è altro che un supporto per la loro neshamah che è venuta in questo mondo ora che vi abbiamo raccontato tutto questo sappiamo perché vogliamo essere onesti con noi stessi che noi a questi livelli non arriveremo mai e siccome noi a questi livelli non arriveremo mai questa cosa ci lascia un pochino con la marro in bocca perché lui sì e noi no perché quando lui usciva di casa c'erano decine di persone che lo accompagnavano e noi vedevamo questa cosa e lo facevano sedere nella macchina e lo e gli davano tutto questo cavodo noi siamo dalla parte dello Yetzarara che vogliamo vediamo soltanto il cavodo perché vogliamo diventare persone famose e conosciute così riceviamo rispetto ed onore e fama non ci interessa niente noi del della realtà perché la fama è la cosa più falsa che esiste in questo mondo questa gente non interessava lui la sua grande qualità la sua grande virtù era la l'umiltà che aveva abitava in un appartamento piccolo con pochissimi mobili e arrivavano da lui delle persone molto benestanti che volevano costruirli una villa che volevano regalarlo non accettava mai niente non sono qui per questo vi ricordate la frase che abbiamo ripetuto due settimane fa non sono qui per questo e quindi se vogliamo imitare queste persone le possiamo imitare nella loro umiltà nella loro devozione nel loro servizio di Hashem non nel fatto che la gente veniva e gli baciava la mano e la gente veniva e gli chiedeva le berakot non siamo noi ora scusate un attimo stavo per dire qualcosa che mi è sfuggito mi è sfuggito quindi non 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 raccontiamo e quindi eh riprendiamo il nostro discorso del fatto che noi non siamo queste grandi anima siamo dei soldati semplici ora il Tania ci dice chi ha detto che essere soldato semplice è meno importante che essere il capo di stato maggiore è meno importante di essere un generale delle forze armate è meno importante di essere un colonnello ognuno in questo mondo ha il suo scopo ha il suo angolo dove deve portare la sua luce e il suo calore come ha detto come ha detto il rebbe al presidente dello stato di israele e questo è quello che dobbiamo fare perché dobbiamo pensare sempre di fare quello che noi non siamo qui per fare e quindi annulliamo e mandiamo via dalla nostra mente dal nostro cuore tutti i concetti del dell'invidia della gelosia perché siamo sempre a vedere l'altro che lui è così lui ha fatto così lui ha risultato con le sue studi con le sue fatiche ha ottenuto questo risultato ma questo è il suo mondo questa è la sua parte in questo mondo non è la mia lui si è sposato con questa donna figlia di di questo io invece ho dovuto accontentarmi di una di una moglie ma ma che discorsi sono prima che nascessi avevano già deciso tu quanti soldi avrai dove abiterai e con chi ti sposerai con tutte cose che sono scritte nell'agmara nel talmud nel trattato tanit proprio all'inizio tutto è già scritto per le cose materiali i tuoi le tue soddisfazioni chiamiamole così i tuoi risultati materiali sono già tutti scritti quello che non è scritto e saranno saranno i tuoi risultati spirituali quello sono nelle tue mani come dicono e tutto nelle mani di hashem a parte la tua spiritualità il tuo traguardo il tuo obiettivo spirituale sta nelle tue mani ora tornando a noi soldati semplici come facciamo ad andare avanti oggi sono cento giorni dalla guerra contro gaza ecco cosa volevo raccontarvi del babasali con gaza vi rubo ancora qualche minuto questa storia l'ho sentita dallo zio di mia moglie perché lui ha meritato di sposare la figlia del babasali che la figlia di babasali si è sposata con un giovane babasali voleva un genero haban ne ha avuti altri perché ha avuto una prima moglie che gli è mancata purtroppo ha sofferto tanto nella sua vita e noi non capiamo perché i tzadikim devono soffrire veramente non capiamo quindi non era il primo matrimonio dalla seconda moglie ha avuto una figlia era la zia di mia moglie ora lo zio mi racconta questa storia devo essere un po più dettagliato non è lo zio il genero del babasali che me l'ha raccontata è il fratello quindi il fratello di mio suocero si chiama moshe anche lui e lui ogni volta che rebbe faceva un un discorso lui prendeva la macchina dopo che ascoltavano via telefono ai tempi c'era solo il telefono andava a netivot e raccontava al babasali tutto il discorso del rebbe perché il babasali voleva sempre sapere cosa ha detto il rebbe cosa ha raccontato cosa cosa vuole da noi oggi cosa vuole da noi domani un giorno il babasali gli dice dopo che ha ascoltato il discorso del rebbe gli dice sei qua in macchina dice sì mi puoi portare per favore in un posto che devo andare ma non voglio che il mio autista lo sappia quindi con discrezione cerchiamo di uscire senza che il mio autista non voglio mettere in imbarazzo il mio autista va bene è salito in macchina erano gli anni 70 credo è salito in macchina e quando esci da netivot hai due direzioni o vai verso berceva o vai verso gaza ora ai tempi gaza era diciamo israele non c'era la barriera non c'era il confine nel 2005 gli israeliani hanno fatto uniteralmente si sono mica tanto facilmente si sono come si dice in italiano si sono ritirati indietre già lasciato spazio si hanno fatto questo tentativo ha detto vediamo uno stato palestinese vediamo cosa ne viene fuori volete uno stato palestinese ecco uno stato palestinese vediamo cosa siete capaci di fare sono capaci di fare solo terrorismo quindi negli anni 70 non c'era la barriera in teoria così come oggi un israeliano può andare a genin può andare a ramalla ma non lo fa perché non lo fa perché non vuole mettere in pericolo la sua vita giusto i soldati stanno in questi giorni stanno entrando di notte con i bulldozer un centinaio di di jeep super corazzate stanno andando ogni sera non so se lo sapete ma già da diverse settimane tutte le sere vanno a tulcare ma genina ramalla in tutti questi e tutte le sere tirano fuori delle armi tirano fuori delle e devono arrestare dei terroristi che iniziano un combattimento contro loro e ci sono dei miracoli giorno per giorno perché baruch hashem baruch hashem e così sia non abbiamo avuto perdite ma sono in guerra non soltanto a gaza sono in guerra anche e questa è una cosa che già da diverse settimane così come oggi è nel aiutave shomron ai tempi gaza era come iutave shomron infatti si chiamava yesha yesha sta per iuda shomron e asa si chiamava così il babasali dice allo zio di mia moglie dice vai verso berceba come hanno svoltato a destra c'era un traffico tutto paralizzato al babasali dice scusami ma il tempo è molto molto prezioso vai dall'altra direzione diceva altra direzione è gaza non ti preoccupare non ti preoccupa e iniziano ad andare in quella direzione ma a un certo punto mio zio dice ho visto il cartello asa e le babasali dice non non avere paura stai tranquilli e e mio zio dice va bene non avevo paura però mi sudavano le mani e non riuscivo a tenere il volante e entrano dentro la città in mezzo alle vie in mezzo alle case e tutti quanti gli arabi lì che guardavano vado avanti vai avanti in mezzo in centro c'è un mercato ho bisogno di qualcosa dal mercato e arrivano al mercato di gaza la macchina completamente circondata da decine di di armi intorno il babasali abbassa il finestrino e parla con loro in arabo e subito diventano tutte le loro come degli agnellini e gli dice ho bisogno di un vaso per fiori e questi questa gente qua intorno corrono al mercato a cercare dei vasi per fiori e intanto babasali dice a mio zio gli dice è perché c'è scritto nello zohar che è giusto avere a shabbat dei fiori vicino alla tavola dove si mangia e ha spiegato che secondo lo zohar c'è un numero di fiori tutta una cosa cabalistica e dice ma shabbat scorso è caduto il vaso e si è rotto quindi ho bisogno di un vaso e mio zio nella sua mente dice ma perché a gaza se vuoi un vaso delle fiori te lo portavo io perché a gaza a un certo punto arrivano con diversi vasi per scegli quello che vuoi allora babasali ha guardato e ne ha scelto uno ha tirato fuori i soldi ha detto no 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 non vogliamo essere pagati no 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 io se non pago non prendo come vi ho spiegato prima chizza di chi non lasciano debiti no no se non pago non prendo li ha obbligati a prendere i soldi e sono tornati indietro con questo vaso di fiori ora se lo racconti in giro ti dicono ma perché siccome ho con me il libro del tania in italiano che normalmente non ce l'ho avvicinato a me ma stasera prima della lezione ci ho dato un'occhiata vi leggo due righe del capitolo 24 capitolo 24 sentite queste parole ora quando gli ebrei entrano in israele mosherabeno dice che gli animali selvatici gli animali feroci perché israele non era così abitata avranno paura di voi e mosherabeno non fa riferimento soltanto agli animali a quattro zampe mosherabeno fa riferimento anche ai popoli che abitavano in israele che si comportavano come degli animali sapete che a kipur al pomeriggio noi leggiamo un brano che parla di tutte le unioni vietate e inizia così dice voi adesso siete nel deserto tra l'egitto e la terra di kenan in egitto si sono comportati con immoralità terribile e quindi sono stati cancellati dalla terra in nella terra di kenan nella terra promessa si stanno comportando così e quindi la terra li vomiterà così dice la torah e voi non imparate da quello che avete visto in egitto e non imparate da quello che vedrete degli abitanti in israele e sette popoli e la torah dice così non seguite le loro abitudini quando moshe mi prepara al popolo andare in israele perché moshe non poteva entrare in israele dice non abbiate paura avranno timore di voi tutti gli animali della terra e fa riferimento agli animali perché c'erano gli orsi i leoni le tigri c'era di tutto in israele ma c'erano anche i sette popoli ora vi leggo il tania capitolo 24 qui dice che gli animali non possono attaccare l'uomo se non se non sono stati comandati da scena ok va avanti dice stato detto ed il timore lo spavento di voi incomberà su tutti gli animali della terra il passo che vi ho appena detto ed i nostri saggi di benedetta memoria hanno commentato che nessuna bestia feroce sfida un essere umano a meno che questo non gli appaia simile ad un animale che cosa ho appena detto che l'animale di natura paura dell'uomo ma perché l'animale attacca l'uomo perché l'animale non vede un uomo animale vede un altro animale perché se noi ci comportiamo come degli animali l'animale ci riconosce tale e quindi ci attacca andiamo avanti mente di fronte mentre di fronte ad un giusto ad un tzadik dal cui volto dal volto del tzadik l'immagine di dio non è mai cancellata sul viso del tzadik c'è l'immagine divina le bestie feroci divengono umili come detto nello zohar a proposito di daniele nella fossa dei leoni famosa storia che daniele è stato calato nella fossa dei leoni e leoni si sono piegati come dei gattini vicino a lui quindi questo sta dicendo ma non so se ha tradotto qui dice gli animali diventano umili nello zohar c'è scritto si piegano davanti a lui questo il babassali voleva insegnare allo zio di mia moglie che io posso andare a casa e posso chiedere quello che voglio e mi daranno quello che voglio perché in me gli animali vedono un uomo con questa frase abbiamo dato risposta a tutte le domande che abbiamo tutte le domande che abbiamo la risposta è questa hashem ci ha creato a sua immagine e i grandi tzadik sono a sua immagine e noi a volte non siamo a sua immagine e per quello che non dobbiamo puntare il dito su di lui quando succede qualcosa quando si svegliano queste persone la mattina e dicono chi ammazziamo oggi perché un animale quando vede un altro animale non ha paura di lui ma Moshe Rabbein ha detto che avranno paura di noi sì sì se noi siamo all'altezza della situazione se noi combattiamo contro il nostro Yetzirah vuol dire che non vogliamo vivere come il nostro con la nostra anima animalesca vuole farci vivere se noi non permettiamo all'anima animalesca di prendere il sopravvento sul nostro corpo e di controllarlo allora il mondo ci rispetterà il mondo avrà timore addirittura di noi perché così è scritto nella Torah e nelle generazioni in cui il popolo si è comportato nel modo giusto come ad esempio i tempi di Shlomo HaMelech c'era la pace duratura una pace che è storica che ricordiamo sempre ai tempi tanti altre epoche nella storia ebraica ci sono stati dei maestri che hanno guidato il popolo e c'era la pace perché perché il mondo ci rispetta quando noi facciamo quello che dobbiamo fare è quasi finito il tempo ma due righe tutti quelli che hanno fatto con me su quell'ora il 7 di ottobre incontrando questa gente che hanno massacrato e ammazzato vedevano gli animali no 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 infatti prima ho letto qualche riga dicendo che anche gli animali feroci sono mandati in missione da Hashem entreremo in un altro argomento ma volevo leggere qualche riga di Tania e sono già le 7 ok voglio ricordarvi una cosa ricordatevi questa cosa chi viene ucciso solo perché è ebreo si chiama Haruge Malchut Haruge Malchut sono coloro che sono stati uccisi non per motivi personali ma solo perché sono ebrei Haruge Malchut sono Rabbi Akiva sono il Kohen Gadol del Betta Migdash Rabbi Elisha Kohen Gadol Rabbi Shimon Ben Gamliel che era la guida spirituale della generazione Rabbi Akiva è stato ucciso dai romani qualcuno può dire che Rabbi Akiva non era l'uomo perfetto hanno visto Rabbi Akiva un animale assolutamente no né di lui né di Rabbi Shimon Gadol che entrava nel Betta Migdash il giorno di Kipur nel Kode Shakudashime usciva vivo quindi era un tzaddik perfetto e com'è possibile che loro sono sono stati uccisi per mano dei di questi assassini romani che sono venuti in Israele non posso dedicare una lezione alle 7 di sera a questo però con questa cosa magari ti ho calmato la domanda lo stesso magari spiegheremo un'altra volta come funziona ma la stessa cosa il stesso concetto tutti gli Haruge Malchut tutti non ha nessuna importanza se osservavano Shabbat o non osservavano Shabbat se mangiavano Shabbat non ha nessuna importanza se loro Hashem ha deciso che sono anime così meritevoli fino al punto di morire perché sono ebrei e basta loro sono ad un livello in Gan Eden come dicono i Chachamim nessuna anima e nessuna creatura può stare vicino a loro talmente potente e talmente elevata è la loro ricompensa in cielo e quindi stiamo parlando di grandi tzaddikim che non possono stare vicino a una persona semplice ma che lui è stata uccisa perché era ebreo sapete che chi ha scritto il Shulchan Aruch è stato scritto a Tzfat da un grandissimo tzaddik Rabbi Yosef Karo e lui tutta la vita ha pregato ad Hashem di meritare di morire al kidush Hashem solo perché è ebreo e per qualcosa che per noi è incomprensibile ma per il grande tzaddik è un alone, un difetto è venuto un angelo che gli ha detto hai perso il merito di morire al kidush Hashem quindi la domanda era lecita per rispondere completamente a questa domanda ho bisogno di più tempo ma ricordiamoci che Rabbi Akiva e i grandissimi tzaddikim sono morti per mano di assassini feroci leggiamo proprio due righe di Tania e poi ci vediamo settimana prossima siamo fermati ok vi voglio leggere lo Zohar lo Zohar porta un insegnamento di un bambino che si chiama Yenuka Yenuka significa nel passato succedeva specialmente ai tempi del Betta Migdash succedeva che c'erano dei bambini che nascevano e dal momento in cui iniziavano a parlare loro già sapevano tutta la Torah in altre parole noi sappiamo che quando noi ci troviamo nel grembo della madre un angelo ci insegna tutta la Torah ma quando nasciamo l'angelo ci dà un colpo e ci fa dimenticare tutto però ogni volta che io studio Torah ho l'impressione di non essere di non studiarla per la prima volta ho l'impressione di averla già sentita questa cosa questa è un'impressione che abbiamo tutti quando studiamo Torah perché è la realtà ora capitava molto raramente ma capitava che c'erano questi bambini che l'angelo non li faceva dimenticare quindi si chiamavano Yenuka Yenuka vuol dire un lattante che però era un maestro erano dei bambini e davanti a questi bambini si sedevano i più grandi maestri di Torah a sentire quello che lui aveva da insegnare perché lui sapeva tutta la Torah lo Zohar porta un detto di un Yenuka questo detto è un'interpretazione a un versetto di Shlomo HaMelech che dice Shlomo HaMelech dice il saggio ha gli occhi nella sua testa riga 5 anzi facciamo riga 1 in fondo il quale dimora con loro quando studiano la Torah si dedicano al suo servizio ci siamo fermati qua come prefazione è da citare il commento dello Yenuka al versetto quale versetto? di Shlomo di re Salomone che dice l'uomo saggio ha gli occhi nel capo allora Yenuka pone una domanda che tutti noi a tutti noi verrebbe e chiede e in quale altro luogo potrebbero essere gli occhi di un uomo? noi abbiamo tutti gli occhi in testa nel capo ma l'interpretazione di questo versetto è certamente la seguente ci è stato insegnato che l'uomo non deve camminare quattro cubiti a capo scoperto qual è l'identificazione di un ebreo? è la kippah sulla testa perché l'ebreo ha la kippah sulla testa? non c'è scritto nella Torah che l'ebreo deve avere la kippah sulla testa ma noi abbiamo la testa coperta perché? perché è un rispetto per la shekinah la ragione è che la shekinah sta sopra il suo capo siccome noi abbiamo la shekinah sopra la testa quindi dobbiamo mettere la kippah per rispetto verso la shekinah per favore non chiedetemi perché le donne non devono mettere la kippah perché c'è la risposta ma non ho tempo per spiegarlo e gli occhi di un uomo saggio e tutto ciò che egli possiede sono nel suo capo cosa vuol dire che l'uomo saggio ha gli occhi nella testa significa che l'uomo saggio guarda sopra la testa i suoi occhi sono indirizzati verso la sua testa vuol dire non dimenticano mai che hanno la shekinah sul loro capo questo è il significato del versetto di Shlomo Amel e gli occhi di un uomo saggio riga 12 e tutto ciò che egli possiede sono nel suo capo che cosa vuol dire? ossia in lui in Hashem che è la shekinah la shekinah è la presenza divina il riflesso della presenza di Hashem come si esprime in questo mondo che si posa e dimora sopra il suo capo quindi sopra ognuno di noi c'è la shekinah però gli Anuka ci insegna qualcosa e dice così e se egli ha lì i suoi occhi deve sapere che la luce che arde sopra il suo capo ha bisogno di olio se io i miei occhi sono sempre indirizzati verso la mia testa in un senso verso la shekinah ricordo continuamente che ho la shekinah che arde sopra la mia testa che illumina sopra la mia testa perché la shekinah è un raggio di luce sapete si dice in italiano aurea aurea si chiama shekinah sopra la testa di una persona c'è una macchinetta che hanno inventato c'è un rabbino che ha inventato una macchinetta che funziona perché l'ha provata e riprovata e funziona legge il colore dell'aurea intorno alle persone ed è riuscito a convincere il rabbino capo di Israele che aveva l'aurea gialla intorno alla testa che è a un livello altissimo di mettere talit e tefillin ha detto no tefillin no perché mi impegna molto mi stanca molto le cavanone ma il talit lo metto ha fatto la barajah ha messo il talit e come ha messo il talit l'aurea da gialla si è trasformata in bianca che è il livello assoluto dell'aurea sul capo che è la shekinah che abbiamo sopra di noi non vorrei mettermi davanti a quella macchina perché probabilmente se non è nera è marrone o verde se mi va bene perché nella cabala viene spiegato tutti i colori delle aurea delle aurea che l'uomo ha quando si arrabbia è tra il marrone e il nero quando è un peccatore è nera e basta come lo chiamano nero come il carbone quando una persona combatte è verde quando una viola è un colore positivo sopra il viola c'è il giallo sopra il giallo c'è il bianco bene era una parentesi e allora siamo a riga 14 e se egli ha lì i suoi occhi se gli occhi dell'uomo saggio e ognuno di noi deve essere saggio e ricordarsi che abbiamo la shekinah sopra la testa deve sapere che la luce che ardi sopra il suo capo ha bisogno di olio come una candela o di cera o di olio deve avere il combustibile per ardere poiché adesso la Januka ci dice ci spiega chi siamo noi qual è la missione nel nostro mondo poiché il corpo dell'uomo è un lucignolo lucignolo vuol dire una lampada e la luce si accende sopra di lui e il re Salomone Shlomo Amel gridava le parole fai che non manchi l'olio sopra il tuo capo ho capito ma se io sono una lampada vuol dire che sono fatto di olio no l'olio lo devo alimentare continuamente l'olio lo devo procurare io non è in dotazione è un optional e come faccio ad avere l'olio perché sul mio capo ci sia una luce che emana calore e luminosità lo dice il Januka infatti la lampada sopra il capo dell'uomo deve avere l'olio ciò significa buone azioni in altre parole ogni mitzvah che noi facciamo ogni mitzvah che noi facciamo stiamo facendo il pieno di olio per far sì che possa continuare ad illuminare sopra la nostra testa la luce della chefina ora tutto questo è da spiegare lo spiegheremo bis a rata shem le settimane che arriveranno ma abbiamo capito che tutti noi siamo delle candele che vanno in giro e portano caluce e portano la luce e il calore che Hashem vuole che ci sia in questo mondo non è una cosa automatica devo continuamente fermarmi dal distributore e il distributore che cos'è? la mitzvah ogni mitzvah che faccio aumento il livello di olio perché possa esserci sempre più luce tante mitzvot tanta luce niente mitzvot asve shalom si spegne la luce sopra la mia testa settimana prossima spiegheremo bene questa cosa ma il benoni e ognuno di noi già si trova più consolato si trova più a suo agio sapendo che fare la guerra contro le zarrarà quindi non cadere nelle trasgressioni e fare le mitzvot aumenta la nostra il livello del serbatoio della luce e siamo delle luci che illuminano di più e già questo ci basta per questa settimana ci vediamo la settimana prossima tutti in buona salute che chavo appelli che chavo appelli